Benvenute all'angolo del disagio, quest'oggi con noi Marika. Di che cosa ci parlerà Marika? Di un ragazzo che la tempesta di telefonate dalla mattina alla sera, di messaggi ma che poi non la invita mai ad uscire? O di un ragazzo con il quale lei è uscita, che si è dichiarato immediatamente innamorato ma dopo una settimana è sparito? Scopriamolo all'angolo del disagio. Vi volevo semplicemente far riflettere sul fatto che alle volte le persone sono esattamente ciò che sembrano, cioè dei perfetti imbecilli.